Un ricordo ci sta, una borsa per tenere dentro tutto il materiale possibile che serve in futuro. Queste scorciatoie sono tutte le vie che servono per capire dove sei e cercare di ritrovarti dopo tanto. Vesti bene la grande attrice, pitturi la tua propria immagine, dimmi un po' come sei fatta dentro, complicato capire a volte perché a volte. L'amore non sa dove colpire alla fine, quando poi alla fine è la sfiga a vederci benissimo. Gli amori a volte sono come degli attori, si mettono e si lasciano ogni volta, certe volte questo amore non è mai sincero. Ci sono molti uomini che fanno complimenti subito alle donne, senza neanche conoscerle. Guardando solo la bellezza, io direi che se una persona lo vuole il complimento, se lo deve meritare. Se fai complimenti alle donne subito, loro già sanno dove vuoi andare e arrivare alla fine. Loro sanno di questa cosa e decidono poi di liquidarti senza che tu neanche te ne accorga. I complimenti devono essere meritati in maniera reciproca. Anche l'uomo se lo vuole della donna, deve meritarselo dopo averlo conosciuto bene. Se uno si tiene veramente, puoi affare un complimento, meglio farlo quando guardi negli occhi a una persona. L'importante è che tutto quello che pensi, dopo averla conosciuto bene, sia sincero. Se uno si tiene veramente, puoi affare un complimento, meglio farlo quando guardi negli occhi a una persona. L'importante è che tutto quello che pensi, dopo averla conosciuto bene, sia sincero. Grazie a tutti.